Kit, accendi tutto. Presentati. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale Kappa ETP Night Industries 2000. Kit se preferisce. Accensione dei fari. Per usare un termine umano, mi sento euforico. Kit, non ho parlato con te. Ragazzi facciamo un po' di kit test drive. Ok. Raga vado alla luce così vedete kit. Questo è kit raga. I fari. Acceso, spento. Raga. Mettiamo in dry. Ok. Ciao kit. Ciao amico. 1, 2, 3. Let's go. Let's go. Go eat. io direi adesso di spegnere le luci perché adesso c'è abbastanza luce qui e di spegnere quelle del cruscotto vediamo ragazzi funziona il sistema di sicurezza di kit ma io non lo capisco ho detto vediamo se funziona il sistema di riproviamo il sistema di sicurezza scusate lo devo un attimo riprogrammare qui c'è un muretto oh apposta detto rallenta pericolo di collisione andiamo qui ciao